Ovviamente tutto quello che sto dicendo è una forma di intrattenimento, giusto? E quindi non mi rendo assolutamente responsabile delle cause che avverranno in seguito a questo video. Maggi, ciao a tutti ragazzi! Parleremo di capo bastone. Capo bastone, il re dei bambini baffini di tutto il mondo. Perché un canale così ridicolo deve farsi vedere ancora più ridicolo di quello che è. Capo bastone è nato dopo il mio canale. Io ne so più di tutti, ne so più di tutti voi. E non capisco com'è possibile che da come siamo partiti nel 2005, che per carità non è che eravamo dei santi nel 2005, ma sicuramente si doveva vedere un miglioramento della società o almeno della community o almeno del sito web. E invece no, abbiamo visto uno sfacelo completo. E adesso questo capo bastone, che si rende sempre più ridicolo ogni video per video, va a fare delle live, dove ovviamente mi cita senza ovviamente fare il mio nome, dicendo, parlando di denunce o cose del genere. Ma io qua ce l'ho qui la tua denuncia, la tua mail stampata e tutto quanto. Ma tu provaci, provaci a fare quello che hai detto. Bambino baffino appunto, non c'è il capo di tutti questi che vanno qua a... Che caccio di video fate? Che caccio di commenti fate? Ma vi dovreste solo vergognare di quello che fate, di quello che ti dico. Oh, non interessa niente della comunità italiana, io c'ho altro da fare, io c'ho altro da pensare, non a queste cazzate. Però voglio dirvi che è così la situazione. Il capo bastone è il re bambino baffino di tutti.